Salve a tutti amici e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo ancora di Olympus. Eh sì, ormai mi sono affezionato tantissimo a questo brand, tant'è che grazie a questa collaborazione riuscendo a provare tutti i corpi macchina di Olympus, che ragazzi sono davvero fantastici. E quindi vi faccio vedere cosa mi è arrivato. Come potete leggere dall'adesivo sul pacco, anzi meglio dire dallo scotch sul pacco, anche questo video è in collaborazione con RC e Foto, uno degli store online di usato fotografico più grande d'Italia. Trovate il link qui sotto in descrizione per andarvi a fare una passeggiata tra tutti i loro usati che hanno e hanno davvero tantissimi prodotti ad ottimi prezzi. E con loro è nata questa fantastica collaborazione che mi ha portato a provare già diversi corpi macchina e io mi sono concentrato sul cercare la camera giusta, perfetta. Non solo tra i modelli super recenti, ma anche su quelli là che si possono trovare usati. Semplicemente per il fatto che non tutti i fotoamatori possono o devono per forza acquistare un corpo macchina nuovo, di ultima generazione, è possibile trovare dei corpi che sono fantastici ancora oggi. Amici, sto parlando di una Olympus OM-D M10 Mark III. Quella che secondo me, se è così come me lo aspetto, può essere la regina dei corpi macchina per i fotoamatori che si avvicinano alla fotografia professionale. E quindi ci ritroviamo a parlare di lei, Olympus OM-D M10 Mark III. Certo, i nomi di Olympus sono sempre stati belli complicati, infatti entrarci nella mentalità è stata abbastanza difficile, non è stato proprio semplicissimo riuscire a capire. Comunque, M10 Mark III, uscita fine 2017, presentata al PhotoKin del 2017, se non vado errato, sul mercato quindi da inizio 2018. È un corpo macchina piuttosto fresco, se vogliamo chiamarlo così. E Olympus a chi ha pensato? Beh, innanzitutto diciamo il fatto che Olympus punta e punterà per molto tempo sul Micro 4 Terzi, infatti non ha in programma di andare oltre questa loro volontà, si è divinta dalla presentazione della M1X. E questa camera, essendo una Micro 4 Terzi, ha un costo molto, ma molto interessante. Parliamo del nuovo, e attenzione. E perché vi parlo subito del costo? Perché viene indirizzata a tutti i fotografi amatori che vogliono avvicinarsi ad un mondo fotografico un pochino più complesso. Diciamo, questo è l'entry level di casa Olympus, una mirrorless entry level davvero molto interessante. Perché? Ci sono diverse motivazioni per cui è interessante e diverse motivazioni per il quale, per un fotografo professionista, probabilmente questa camera non andrebbe bene. Ma iniziamo dal dire che il sensore di questa camera, stabilizzato digitalmente, è un sensore da 16,1 megapixel effettivi. 16 megapixel possono sembrare pochi, ma vi assicuro che le fotografie hanno una buona resa. Il dettaglio di questa camera è altrettanto ottimo. I colori sono quelli di Olympus, quindi c'è chi li può apprezzare e chi li può apprezzare un pochino meno. Quello che è davvero buono di questa camera è il fatto che abbia 121 punti di messa a fuoco. Non copertura totale del sensore, ma una buona, ottima copertura per una messa a fuoco veloce. Grazie a questa copertura la macchina ci consente quindi di essere abbastanza veloci con il fuoco. E non ho la lente qui con me, con una lente Pro davanti, quindi della serie Pro di Olympus. Il fuoco è ancora più preciso perché poi le lenti sono migliori. Naturalmente la camera l'ho provata con una lente Pro, non con la lente di la Starter Kit per intenderci, la Pancake piccolina, perché non me l'hanno inviata. Ma di sicuro quello è l'abbinamento giusto e ottimale per questa macchina. Perché la macchina è molto leggera, il corpo è molto leggero, l'impugnatura c'è, ma essendo un corpo molto piccolo le mie mani fanno fatica a prenderla tutta. Ma sono molto comodi i tasti di funzione. Ci sono delle cose che mi sono piaciute davvero tanto, come il tastino di accensione e spegnimento che si trova sulla parte superiore, che con uno slide ancora verso l'alto apre il flash incorporato. Flash incorporato che per chi comincia a fotografare, per gli amatori, in determinate situazioni, può diventare davvero un salva tutto, un salva momento per riuscire a fare lo scatto che ci serve. Molto comode le ghiere di funzione. Non mi piace il fatto che non ci sia un blocco per la selezione delle varie modalità che troviamo qui sopra. Parliamo della rotella delle varie modalità. Troviamo poi il tasto di registrazione per i video un pochino in una posizione scomoda. Lo avrei preferito sull'impugnatura del pollice, ma come abbiamo già visto da altri Olympus, purtroppo tendono a spostarlo in continuazione a non dargli una posizione ben precisa. Capacità di batteria? Beh, allora, prima di tutto parliamo del fatto che già per i professionisti avere uno slot SD nella parte inferiore è abbastanza scomodo. Batteria non dura poco, non dura tanto. E il giusto compromesso, se si è amatori, funziona benissimo. Il sensore non è male. Naturalmente, essendo un micro 4 terzi ed essendo piuttosto piccolo, soffre agli alti ISO, quindi alle basse luci. Riesce a mettere a fuoco, ma purtroppo è comunque un micro 4 terzi di una macchina in tri-level e ci sono altre macchine competitor che purtroppo hanno delle prestazioni migliori. Ma, in compromesso, questa camera riesce a registrare video, oltre che in Full HD a 60 fotogrammi al secondo, anche in 4K. Ed è questo un bonus per tutti gli amatori che amano non solo fare fotografia, ma anche fare video. Certo, ci sono un paio di cosucce che purtroppo fanno storcere il naso e che purtroppo la rendono inadeguata per l'utilizzo professionale, anche come secondo corpo macchina. In primis, il fatto che non abbiamo un accesso per le cuffie. Non esiste lo spinotto, possiamo soltanto utilizzare il microfono integrato. Che ho fatto un test. Una grande domanda da rispondere. Con questa camera è possibile parlarci, quindi vloggare? Non ho uno schermo, quindi non so se sono a fuoco, non so se le impostazioni della camera sono favorevoli come condizioni di luminosità, ma io ci provo lo stesso. E nel frattempo sto testando anche quello che è l'audio camera, quindi per vedere senza l'utilizzo di microfono esterni che cosa si sente. E come avete visto purtroppo non è dei migliori. Oddio, ci sono tantissime altre variabili, molti utilizzano il microfono in camera. Mi riferisco a special modo ai creatori di contenuti sul web, ma io preferisco sempre avere un microfono esterno perché la qualità purtroppo è differente. Seconda cosa che farebbe storcere un pochino il naso è purtroppo lo schermino che non si ribalta di 180 gradi. Perché questo? Non perché sia fondamentale averlo, ma semplicemente perché si mette in condizione tutta una fascia di utenza, anche amatoriale in questo caso, che vuol creare dei contenuti su YouTube. E purtroppo chi crea contenuti su YouTube ha bisogno di un monitor per potersi guardare, di non poterla utilizzare appieno. Quindi bisogna fidarsi di quello che stiamo inquadrando. Quindi questo è l'unico problema, se vogliamo definirlo tale. E infine c'è la terza problematica, che è legata al fatto di girare video in 4K. Prima di tutto i video, sia in Full HD che in 4K, come per le sorelle maggiori e quindi per le sorelle più performanti, hanno una durata di tempo molto limitata, legata al minutaggio. Quindi non possiamo registrare clip molto molto lunghe. E c'è un altro piccolo svantaggio. L'altro piccolo svantaggio è che quando settiamo la macchina per girare in 4K, non possiamo comandare gli ISO. Possiamo comandare tempi e diaframmi, ma gli ISO li deve decidere la macchina. Questa cosa non l'ho capita, probabilmente è per la gestione migliore del sensore e per togliere carico probabilmente al processore. Non so dare una motivazione per il quale non mi danno la possibilità di variare gli ISO su questa camera mentre giro in 4K. Questa cosa davvero mi ha fatto storcere il naso. Passavo sopra anche al jack per le cuffie, al monitor, perché purtroppo ci sono tantissime altre camere che non hanno il monitor ribaltabile, ma sono performantissime. Ma questa cosa qui purtroppo mi ha fatto un attimo storcere il naso. Certo, funziona bene, gestisce bene, ma non ho il pieno controllo, special modo di notte, perché per riuscire poi a compensare l'esposizione spara gli ISO tantissimo e purtroppo il risultato non è dei migliori. In Full HD fortunatamente almeno riusciamo a mantenere il pieno controllo. Queste alcune delle note negative, ma ci sono anche delle note positive. Ci sono un paio di funzioni integrate all'interno della camera per lo scatto, per questo questa macchina diventa ottima per gli amatori fotografici, per chi vuole approcciarsi al mondo delle mirrorless e anche, perché no, al sistema micro 4 terzi, perché è un sistema molto interessante. Ha un paio di funzioni che, la prima è per la lunga esposizione, quindi riesce a creare scatti in lunga esposizione in maniera live, nel senso che noi vediamo sul monitor a mano a mano che il tempo passa che l'immagine si costruisce. E possiamo decidere in qualsiasi momento di fermare lo scatto se non gli diamo un tempo prestabilito. Mentre l'altra invece, si chiama Light Comp, una cosa del genere, serve, e quella è molto divertente, praticamente il sensore registra solo i cambiamenti di luce, quindi è possibile fare delle fotografie in modo molto semplice, completamente al buio, con la torcia del cellulare. Possiamo illuminare il fotogramma e costruire noi un'immagine. E queste sono delle funzioni molto interessanti che aiutano tantissimo chi la possiede a realizzare delle cose, dei prodotti, delle fotografie molto creative, ma, come vi dicevo, con purtroppo delle limitazioni, dovute anche alla fascia di prezzo e dal fatto che comunque è una macchina in trilivel. Ci sono modelli superiori, parliamo della M5 che ho già recensito, della M1 e della M1X, M1X che è il top di gamma. Giungiamo alle conclusioni. A chi la consiglio questa camera? A tutti coloro che vogliono una mirrorless e vogliono quindi approcciarsi al sistema di fotografia e vogliono approcciarsi alla fotografia. Quindi non per forza un amatore, ma anche per esempio chi possiede una reflex in trilivel e vuole passare a un sistema più leggero, Olympus, che fa delle grandiosi macchine, oltre che delle grandiosi lenti, ci mette a disposizione questa camera che è il giusto, con promesso qualità a prezzo. E sul web, come è sul web, faccio l'esempio più classico, il RCE Photo, che me l'ha messa a disposizione. Il prezzo ce ne sono diverse. C'è anche la versione Mark II che è ancora in vendita e si trova ha usato a un prezzo davvero fantastico. Il differenzia poco da questa. Si trovano delle offerte davvero molto interessanti, tant'è che io stavo pensando di prenderne una. Come secondo corpo macchina. Proprio perché è una bellissima camera da avere in borsa perché, ragazzi, è piccola ed è leggera. Quindi, professionista all'ascolto, probabilmente te la sconsiglio, devo essere sincero. Ma per te, foto amatore, che fai fotografie, attenzione, te la consiglio. Se già vuoi fare video, se siete accontenti di un buon full HD fino a 50-60 fotogrammi al secondo, va bene. Se vuoi registrare qualche clip in 4K di giorno con tanta luce, va benissimo. Ma se vuoi utilizzarla di sera, già il sistema micro 4 terzi non è dei migliori per essere utilizzato in scarsa luminosità. Questa, poi, non avendo una gestione manuale degli ISO, diventa un pochino più complicato. Insomma, siamo giunti alla fine di questo veloce riassunto di quella che è la M10 Mark III di Olympus. È una bella camera? Sì, non posso negarlo, perché i suoi difetti sono compensati dalla fascia di prezzo, quindi dal costo che ha sul mercato, special modo nel fatto che oggi si trova a prezzi competitivi, sia nuova che usata. Quindi, se avete la possibilità di poterla provare e giocarci per una giornata, vi è sicuro che riuscirete a trovare tutti gli aspetti positivi di questa camera in pochissimo tempo, perché subito lo apprezzerete. E se non avete esigenze particolari, non noterete neanche quelli che sono i suoi difetti. Insomma, cos'altro dirvi? Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, di seguirmi su Instagram e anche su Twitter, perché adesso anche su Twitter ricomincerò ad essere un pochino più performante. Iscrivetevi alla pagina Facebook, perché tra poco usciranno delle belle novità. Cos'altro dirvi? Ci vediamo settimana prossima con un nuovo video! Grazie a tutti!